E' diverso, difficile perché quattro mesi, cinque mesi da fermo, si allena da solo ma non è uguale. Però è bello tornare e fare qualcosa con le palla, che mi mancava. Ecco, sei una novità di quest'anno ma sei anche un veterano in qualche modo perché un po' oltre Valli lo conoscevi già, conoscevi già il mister e i compagni. Com'è stato ritrovarli e le vostre prime impressioni di squadra? Eh sì, la squadra io conosco, non lo so, 90%, quindi è una squadra buona, possiamo pensare in cosa grande in questa situazione. Il mister è buonissimo, una bella persona e anche un bello mister. Quindi aspettiamo, io ho venuto per vincere il campionato, quindi questo è l'obiettivo. Ecco, adesso ovviamente una domanda su come hai trascorso i mesi del lockdown, come li hai trascorsi? Eh sì, io ho stato in Brasile in questo periodo, ho stato veramente fermo perché lì è tragico. è tanto, quindi io solo ho fermato a casa per stare bene, non c'è problema. Quindi io davvero sto tornando a allenare ieri, ho tornato ieri, quindi adesso c'è un mese per tornare al 100%. Grazie, un bocca al lupo e buona ripresa. Grazie mille.